Benvenuti a questa quinta lezione su Pascal, dedicata all'ultimo argomento che tratteremo, la ragionevolezza del cristianesimo. Indagheremo il rapporto tra ragione e fede, come la filosofia si trasformi in un prendersi beffe della filosofia, ridere della filosofia, e la fede consenta di superare i rimiti della ragione e approdare alla soluzione, a quella che è la risposta alla domanda che ha guidato tutta l'indagine di Pascal. E cioè il senso dell'esistenza umana e lo scioglimento di quel groviglio mostruoso, di quel nodo di contraddizioni che è l'uomo. Per esaminare quest'ultimo argomento utilizzerò la mappa che ho preparato. Vediamo subito il problema come si pone. Bene, il problema che si pone è che, portata a compimento l'indagine sui limiti della ragione e sulla mancanza di una risposta certa al dilema dell'esistenza, Pascal constata che la ragione fallisce. Una volta che la ragione ha fallito, quale strada si può prendere? Quale direzione la ricerca può intraprendere? Se vogliamo dare un senso all'esistenza o trovare comunque la risposta a questa domanda, bene, la soluzione che Pascal adotterà sarà quella di superare quelli che sono i limiti della filosofia. Ecco che senso ha la riflessione sulla filosofia di Pascal, con una certa espressione più moderna, potremmo dire metafilosofia, termine certamente non pascaliano, cioè un'indagine filosofica che assume quale suo oggetto, la filosofia stessa e i suoi limiti. Per poi, seconda strada, individuata nel cristianesimo, la soluzione ai problemi dell'esistenza, dimostrare la ragionevolezza del cristianesimo, come il cristianesimo non si caratterizzi come irrazionalità, contrapposta alla razionalità del filosofare. Quindi vi è insieme tra fede e ragione, continuità, ma anche distacco, scarto. Le domande che caratterizzeranno questa ricerca di Pascal saranno tese a chiarire quale sia l'esatta funzione della filosofia in Pascal e in che senso la fede dia una risposta al problema dell'esistenza e cioè riesca laddove la filosofia ha fallito. Bene, partiamo da Pascal e da questa sua riflessione. Qual è il problema dell'altro romano? L'abbiamo già più volte visto. L'infelicità e la mancanza di senso. Di fronte a questa situazione, la ragione si mostra incapace di trovare una soluzione. Infatti la filosofia mostra la sua impotenza perché non è capace di spiegare la peculiarità della condizione umana da nessun punto di vista, né dal punto di vista della conoscenza e della scienza, né dal punto di vista della morale, né dal punto di vista di quella che è la natura dell'esistenza. Abbiamo visto che scienza, morale, filosofia, opinioni comuni, eccetera, falliscono tutte. A questo punto si è arrivati quindi ai limiti della filosofia. La ragione ha incontrato una barriera che non può valicare, dato che la ragione ha un potere che è finito. Ha incontrato i suoi limiti. A questo punto le strade che si possono intraprendere sono due. O quella tradizionale, dello scetticismo, dai sofisti a Pirrone e così via, che conduce alla negazione di Dio, che conduce a quello che a quei tempi aveva chiamato il pensiero libertino, che esaltava appunto la libertà in tutti i suoi aspetti, in campo pratico, in campo teorico, conoscitivo, oppure si concepisce la filosofia come una riflessione sui limiti della ragione, da qui appunto l'espressione beffarsi della filosofia e filosofare davvero, cioè non prenderla sul serio, comprenderne quindi i limiti, e ci si avvia a superare la ragione, cioè a cercare un'altra dimensione per accedere alla verità, per accedere alla risposta alla domanda. E questa è la fede. Bene, arrivati a questo punto, ricordiamo brevemente il dilemma e il dramma dell'esistenza umana. È la contraddittorietà che determina quello stato di frustrazione che rende insoddisfatto e infelice l'uomo qualsiasi cosa egli faccia. E questo deriva dal fatto che nell'uomo sono presenti sia la grandezza che la miseria. La grandezza che lo spinge ad aspirare, cioè a porre come suo dover essere, come oggetto della sua volontà, la ricerca del bene, della verità e della felicità, assoluti, infiniti. Ma al tempo stesso la miseria dell'uomo. Miseria perché la condizione concreta in cui vive è quella del male, dell'ignoranza e dell'infelicità, che non sono superabili. Perché? Perché per i suoi poteri, per la sua stessa natura, l'uomo è un essere finito. Quindi è un essere finito che però pone nell'infinito il suo oggetto, l'oggetto che gli ricerca, che gli vuole, e quindi non può che essere infelice. L'uomo non può fare a meno di essere infelice. Leggiamo brevemente questo brano. Se l'uomo non fosse mai stato corrotto, godrebbe sicuro, nella propria innocenza, della verità e della felicità. Condizione paradisiaca. L'uomo non avrebbe mai conosciuto l'infelicità. Se fosse stato sempre corrotto, non avrebbe idea della verità e della felicità. E quindi si accontenterebbe, in qualche modo, della sua condizione, perché non avrebbe idea di una condizione migliore. Ma, sventurati che siamo, noi abbiamo un'idea della felicità, ma non possiamo conseguirla. Sentiamo che in noi c'è solo un'immagine della verità, ma non possiamo arrivare alla verità. Ebbene, l'uomo, quindi, non può fare a meno di essere infelice. Utilizziamo ora quest'altro romo della mappa. Ebbene, l'infelicità e l'insensatezza dell'esistenza umana trovano una soluzione per Pascal nella dimensione della fede. La fede è strettamente collegata alla rivelazione. E questo è molto importante, quindi. Con la ragione non possiamo arrivare a quello che è il contenuto della rivelazione, Cioè, di una verità che ci viene data e non che viene da noi raggiunta con la ragione. In sintesi, il concetto di Pascal è che l'uomo è un problema la cui soluzione si trova soltanto in Dio, come dicono molti manuali. E quindi, l'uomo non è in grado di risolvere autonomamente il problema della sua esistenza. La rivelazione ci porta al cristianesimo e alle verità, appunto, rivelate del cristianesimo. Tra cui il racconto biblico. A questo punto, se intagliamo il racconto biblico, insomma, il famoso mito di Adamo e di Eva, del peccato originale, vediamo che l'uomo vive in una condizione paradisiaca in cui dispone del senso della sua vita, della felicità assoluta, del bene assoluto o della verità assoluta. Ma con il peccato originale si ha la caduta, la cacciata dal paradiso. E, dalla condizione di grandezza, di possesso di beni assoluti, di felicità assoluta, l'uomo cade nella miseria, nell'essere, nella storia, in quella che è la dimensione di finitezza che gli impedisce di ritornare a quello che aveva prima. Naturalmente, la vita dell'uomo, da quel momento, sarà agitata da una perenne insoddisfazione e da una perenne malinconia, nostalgia, che si caratterizza, si configura come tentativo di tornare a quella condizione paradisiaca, di grandezza, di bene, di felicità, che era la condizione del paradiso terrestre. Ora, quale vuole essere la soluzione che qui Pascal cerca di proporre? Bisogna distinguere tra due aspetti. Il racconto biblico, al racconto biblico si arriva attraverso la fede e attraverso la rivelazione, non attraverso la ragione. Ma il racconto biblico, in quanto tale, non è un insieme di superstizioni irrazionali e ridicole, che anzi è un racconto che rende conto di quella che è la condizione umana. Infatti, l'uomo è come un sovrano decaduto, aveva l'assoluto, aveva il bene, aveva la felicità, le ha perdute e vuole ritornarvi. Cosa vuol dire, Pascal? Vuol dire che il racconto è assolutamente ragionevole, nel senso che è un'ipotesi plausibile che spiega in modo razionale quello che è la condizione di grandezza e miseria insieme dell'uomo. Quindi, in un certo senso, Pascal procede quasi scientificamente l'ipotesi, il racconto biblico. E il racconto biblico, a differenza della ragione che non è capace, il racconto biblico è capace di dare una spiegazione alla condizione di miseria, ma soprattutto alla contraddittorietà della natura umana. In questo senso, ecco una delle risposte alla domanda della ragionevolezza intorno alla ragionevolezza del cristianismo. Il cristianismo è ragionevole perché? Perché spiega il mistero della condizione umana. Quello che è un mistero per la ragione, perché la ragione non riesce a chiarirlo, spiega cioè la compresenza nell'uomo di miseria e grandezza, lo stato di perenne frustrazione e al tempo stesso l'aspirazione a una felicità assoluta. Naturalmente, Pasquale è consapevole del fatto che non si può però arrivare a credere alla verità del racconto biblico, in questo caso della caduta del peccato originale, con la ragione. Anzi, dal punto di vista della ragione, niente vi è più ingiusto della dottrina del peccato originale, per cui tutti coloro che vengono dopo Adamo ed Eva sono condannati anche dei bambini innocenti alle pene infernali perché i loro progenitori hanno peccato. Niente c'è di più assurdo per la ragione che una simile dottrina, quindi non si arriva a credere a quella dottrina con la ragione. Ma una volta che vi si crede, si mostra un'ipotesi del tutto ragionevole nello spiegare il dilemma dell'esistenza umana. Vediamo di riflettere adesso sulla fede e sulla religione. La fede e la religione sono qualcosa di irrazionale, sarebbe più corretto definirle come qualcosa di extra-razionale o di meta-razionale, cioè di non razionale ma non necessariamente, non sono razionali la fede e la religione, ma non sono nemmeno irrazionali, la fede non si contrappone alla ragione come l'irrazionale si contrappone al razionale, è qualcosa di differente, qualcosa di extra appunto. Ma è ragionevole in sé stessa. È vero che la ragione non può dimostrare, ne può fondare la fede, altrimenti la fede sarebbe inutile. Se la ragione da sola riuscisse ad arrivare a Dio, la fede non avrebbe più luogo, non avrebbe più senso, non ci sarebbe più bisogno della fede, della religione, della rivelazione. Cosa vuol dire quindi Pascal? Vuol dire che pur non essendo fondata sulla ragione, la fede non è necessariamente antitetica alla ragione. La fede è un dono di Dio, non crediate che diciamo che è un dono del ragionamento, quindi Pascal si deve barcamenare tra queste due posizioni, cioè deve stare attento a non ridurre la fede alla ragione, ma al tempo stesso deve stare attento a non fare della fede l'irrazionalità stessa, contrapposta alla ragione. Il cuore, già abbiamo trovato il cuore come la capacità di intuire l'evidenza dei principi primi delle scienze, è l'organo, la facoltà che invece si avvicina di più a quello che è il credere, e il sentire propri della fede. Il cuore, non la ragione, sente Dio. Ecco che cos'è la fede, Dio sensibile al cuore e non alla ragione. Quindi il cristianismo è ragionevole, ma non coincide con la ragione. Il cuore, quella dimensione emotivo-sentimentale, a cui si apre la certezza nell'esistenza di un'entità trascendente, l'amore, il sentimento quindi, per un'entità trascendente è assoluta. A questo punto arriviamo a un'altra delle risposte che Pascal fornisce riguardo al problema della ragionevolezza del cristianesimo. Il cristianesimo è ragionevole anche in un altro senso, perché non si identifica con l'irrazionale. In qualche modo è la stessa ragione, dice Pascal, intesa come riflessione sui limiti della ragione, cioè come metafilosofia, che spontaneamente si sottomette alla fede perché si rende conto dei propri limiti. Questo non significa che la ragione sia capace di arrivare fino alla fede, ma significa che la ragione è, come dire, un'istanza propedeutica, la fede preparatoria della fede, perché arriva a comprendere il proprio limite e si ferma e decide di fermarsi. Nulla è così conforme alla ragione come questa sconfessione che la ragione fa di se stessa. Quello che Pascal quindi vuol dire è che la ragione stessa ci fa capire che dobbiamo procedere con strumenti che non sono razionali. E vediamo un altro e ultimo senso in cui il cristianesimo è ragionevole, il famoso argomento della scommessa, un argomento molto noto che Pascal propone come una sorta di gioco filosofico. La scommessa è tra le due possibilità, ovvero è più conveniente puntare sull'esistenza di Dio o sulla non esistenza di Dio. Pascal conclude che è più conveniente puntare sull'esistenza di Dio perché se si vince la vincita è infinita. Vediamo di chiarire meglio quest'ultimo punto prima di concludere. Mi servirò di questo schema. La scommessa di Pascal e quindi inferno e paradiso. Bene, l'argomentazione di Pascal è piuttosto articolata. A chi si rivolge Pascal? Pascal si rivolge prima di tutto agli ati e libri pensatori, a coloro che negano Dio perché vedono nella fede qualcosa di razionale, superstizione popolare, è qualcosa quindi di grossolano e rozzo. La fede è come qualcosa di razionale. Con l'argomento della scommessa Pascal si rivolge agli ati e libri pensatori proprio per dimostrare che invece la fede è compatibile con la ragione. Per dimostrare cioè che puntare sull'esistenza di Dio è più ragionevole che invece optare sulla non esistenza di Dio. E dunque, se così stanno le cose, la fede e il cristianesimo non possono essere rappresentati come irrazionalità, superstizione. Sono anzi compatibili con la ragione pur non essendo derivabili dalla ragione. Una premessa. L'uomo deve, secondo Pascal, scegliere tra vivere come se Dio ci fosse o come se Dio non ci fosse. Cioè, anche coloro, ricordiamoci che si rivolge appunto agli agnostici, ai relativisti, agli ati, ai libertini, eccetera, potrebbero rispondere a me non interessa fare questa scelta. Ma il non scegliere, dice Pascal, equivale a scegliere che Dio non esiste. Quindi anche chi si rifiuta di accettare questo argomento in realtà sta scegliendo. Vediamo adesso l'argomento. Se sceglierò che Dio esiste, cioè se la mia scommessa punterà sull'esistenza di Dio e Dio effettivamente esiste, il mio premio, la mia vincita, saranno infiniti. Cioè, vincerò un bene infinito, una posta infinita. Se invece Dio non esiste, io non avrò perso nulla, non avrò nessuna perdita. Quello che perderò è che, avendo vissuto virtuosamente, non mi sono dedicato ai piaceri della vita, ma comunque una perdita finita. Se invece io ho la mia scommessa riguarda la non esistenza di Dio, cioè scommetto che Dio non esiste, se Dio esiste, avrò perso tutto. Quindi è la mia perdita, l'apposta che avrò perso, è una posta infinita. Mentre nel caso io abbia successo, effettivamente Dio non esiste, non avrò vinto nulla. se non quei pochi anni di piaceri, di vita viziosa, tra virgolette, che avrò condotto sulla Terra. Quindi, conclude Pascal, come in un gioco, come quando si gioca, è ragionevole puntare una posta finita per una vincita infinita, allo stesso modo è più ragionevole puntare sul fatto che Dio esista, al limite si perdono i piaceri terreni, che sono una posta finita, una puntata finita, in vista di quello che è un premio infinito, una vincita infinita. E quindi, il cristianesimo, scegliere Dio, è più ragionevole. È chiaro che questo non è un argomento che può spingere alla fede, che può portare al raggiungimento della fede, però è uno strumento che serve a Pascal per dimostrare che quella irragionevolezza, tanto rimproverata dal pensiero ateo agnostico al cristianesimo, non è tale, il cristianesimo non è affatto irragionevole. Bene, abbiamo concluso che la filosofia di Pascal, naturalmente, ha suscitato ampi dibattiti, soprattutto il fatto che Pascal, appunto, non vuole rinegare la ragione, pur ritenendo che la ragione sia incapace di risolvere i problemi del bene, del vero, del bello, del giusto, della felicità, eppur ritenendo che la fede sia superiore alla ragione. E questo atteggiamento di Pascal, che vuole, appunto, salvare insieme la fede e la ragione, fa sì che la sua filosofia si presti a critiche sia dai razionalisti, che la considerano mistica e fideistica, sia da chi invece punta sulla fede, dai religiosi, dai teisti, che la considerano eccessivamente razionalistica. Questo è tutto, arrivederci, buono studio di Pascal.